Salve a tutti ragazzi, andiamo a vedere il primo reale gameplay di Stardew Valley che non siamo riusciti a vedere nel prologo del video precedente. Ci muoviamo con Wazdsfr, questo è il nostro lettino, questo è il nostro caminetto, addirittura abbiamo una televisione, un pacchetto. Dentro abbiamo partnership seed, tipo i conflux, possiamo chiedere il report del tempo, ci sarà il sole tutto il giorno, ma non ho capito quando. Living off the land? Ah, questo è tipo un programma televisivo che ti insegna a fare il contadino, che figata. E quindi vediamo un po' che cosa dice. Dunque, taglia il legno e cerca del foraggio, insomma dell'erba selvatica, per guadagnare qualche moneta. Mentre aspetti che sia il momento della raccolta di questi semi che abbiamo appena ricevuto. Bene, bene, fantastico. Allora, andiamo subito intanto a seminare, vai. E nel journal troviamo anche le basi per diventare un contadino, fantastico. Quindi dobbiamo usare la zappa e coltivare la terra. Poi, appunto, seminare è grazie al cacchio, sempre nel terreno e anacquare ogni giorno. Perfetto, andiamo. Cavolo, mi ero dimenticato che effettivamente prima dobbiamo ripulire tutto. E quindi diamoci da fare. Prima di tutto prendiamo la falce. Ok, facciamo un po' di spazio qui davanti. Che sono 15 semi, va bene? Va bene, mi basterebbe farne 5x3 in pratica, no? Ma come funziona questo? Serve a niente se io faccio così? No, non serve a niente. Ah, non serve a niente la posizione del mouse. E allora, ditelo prima, no? Ok, ci dovremmo essere. A questo punto prendiamo i seeds, che poi l'ho scoperto essere la pastinaca. Non c'è niente a che fa con i conflix. Ecco qua, ne abbiamo messi 15. Adesso andiamo a seminare. Intanto sono già le 10 di mattina. Sì, scusate, a seminare. Ad anacquare, a annaffiare. Bene. Perché ogni giorno deve rimanere umido. Poi forse il secchio lo possiamo riempire qui. Ah, sì, sì, l'ha riempito, l'ha riempito. Bene, l'obiettivo di oggi, o comunque l'obiettivo che abbiamo da svolgere, è quello di presentarci a 28 persone. Ovviamente ci siamo già presentati a Robin e al sindaco. E quindi forse è il momento di andare a fare una visitina in paese. Ma prima di tutto mi faccio una bella pulizia qui davanti casa. Che mi piace da morire. Forse veramente dovrei fare il contadino. Abbiamo 500 monete, l'altro lo vedo adesso. E adesso ce ne andiamo a fare un giretto di qua. E vediamo un po' di che cosa si tratta. Bellino questo modo di far vedere il giorno e la notte. Questa è la cittadina. Ah, qui c'è anche un'infermeria. Vediamo un po' che c'è scritto qui. È chiusa, apre dalle 9 alle 3 del pomeriggio. Ah, bello. Infermeria, forse è una farmacia. Che c'abbiamo? Ah, questa è la data. Dunque, anno 1, primavera. Vediamo un po' che cosa c'è nel negozio. Perché qui intanto potrei incontrare gente. Questa è Lea. Ciao. Piacere di conoscerti. Tutto lì? Hai preso un buon momento per venire qui. La primavera è amorevole, è fantastica, è bella, insomma, è piacevole. Vabbè. Quindi ho conosciuto un'altra persona. E poi possiamo comprare delle altre cose. Dunque, diamo un'occhiata. La pastinaca la possiamo comprare a 20 monete. Ci mette 4 giorni per maturare. I fagioli mettono 10 giorni, ma producono anche dopo questi giorni. Quindi probabilmente è la possibilità di raccoglierli diverse volte. Poi vediamo, c'è il cavolfiore. Invece le patate. Kartoffel. Ci mettono 6 giorni a maturale. Non c'è altro. Ah, madonna, sì. C'è pieno di roba qui. Guardate. Io andrei a provare una patata. Io adesso ho bisogno, appena ho venduto l'altre, di potercene rimettere. Abbiamo un giardino con 16 posti. Quindi 4 e 4, 8. Andiamo a riprendere altre 8. E così facciamo una cosa un po' mista. Dai, così. E incontriamo altre persone. Un'altra signorina. Sono donne qui. Caroline. Ciao. Devi essere Hans, il nuovo fattore. Sono Carlo. Carlolina. Ma incontriamo anche Alex che dice Ah, quindi te sei il nuovo arrivo. Cool. Ci vediamo in giro. No, vediamo un po' la nonnina. Evelyn. Ciao. Benvenuto nel nostro piccola comunità caro. Mi puoi chiamare Granny se preferisci. Andiamo un po' da queste qui. Facciamoci una famiglia anche. Penny. Ciao. Ah, tutto lì? Aspetta. Oh, vuoi qualcosa? Questa mi sta già sul cazzo. Antipatica. Ma te non sei quello che sei appena arrivato? Io sono Maru. Ciao Maru. Mi stai più simpatica. Ti ho aspettato con ansia per incontrarti. Quasi quasi mi sto già facendo la famiglia. O forse vuoi qualcos'altro? Va bene. Ok. Sai, in una piccola città come questa, una nuova faccia può alterare la dinamica della comunità. Sono così eccitata. Madonna. Addirittura. Ma posso entrare in casa, per esempio? Porca miseria. Posso entrare in casa come i Pokémon, praticamente. Vediamo un po'. Qui posso leggere delle cose. Super Fashion Girl Magazine. Ah, fantastico. Ma che dite? Se io mi vado a presentare entrando in casa così, si spaventeranno queste persone? Oh, sei il nuovo fattore. Cioè, sei tu il nuovo ragazzo arrivato, insomma. Ma adesso è meglio che torno a casa, non sappiamo che cosa può succedere la notte. Io ho paura, se no da solo. E poi mi ero dimenticato che qui manca anche un lampione. Cavolo, lo potevano mettere qui, che ne so. Qui così. Oh, e ci voleva tanto. Mamma mia. Ecco, giusto. Adesso dobbiamo mettere la roba in questo cesto, così che il sindaco lo viene a prendere. Un paese strano dove il sindaco viaggia di notte per prelevare le risorse trovate dalle persone durante il giorno. Ma che strano mondo, Stardew Valley. Comunque, nonostante il buio, io in perterrito voglio ancora piantare, seminare i semini che abbiamo comprato oggi, visto che c'è ancora dello spazio. E poi andiamo ad innaffiare. Mamma mia, non si vede più niente. Non si vede più niente, andiamo al lettino al sicuro in casa. Vuoi andare a letto per la notte? Sì, ho guadagnato 83 monete. Ah, non male, vado a fare il boscaiolo allora a questo punto. Buongiorno mondo. Molto bene. Che cosa facciamo oggi? Bene, prima di tutto alziamoci da questo letto e andiamo ad anacquare le piantine. E soprattutto speriamo che sia bel tempo. Andiamo a vedere. Oh yeah, una bella giornata. Ah, ma cosa è successo lì? Boh, non lo so. Allora, intanto mettiamo qui un altro po' di pastinaca. Quella è un seme che non riconosco. Non è uno di quelli che abbiamo messo noi. Comunque va bene, andiamo ad anacquare in questo momento. Ecco qua, ecco qua le nostre piantine. E poi dopo facciamo una bella pulizia. Voglio espandere ancora un pochino il nostro, il davanti della casa. E poi prendiamo un po' di risorse per craftare, per esempio, una cassa, una cesta. Va bene? Ok. Tra l'altro abbiamo raccolto qualcosa. E' arrivato il momento di seminare questi semi che ci sono arrivati dal cielo come un dono. E poi sperare anche che siano cose proficue. Terminiamo di anacquare, non dimenticandoci di quei semi che potrebbero essere, non so, lingotti d'oro. Potrebbero venire fuori cose così. Crescete piante, crescete! E fatemi ricco! Abbiamo raccolto abbastanza materiali per poter craftare una cesta. Eccola qua, andiamola a posizionare. Dov'è? Eccola qui, sì. E la mettiamo qua sopra all'entrata di casa. Speriamo di poter accedere anche di qui, no? Dannazione, dannazione. Va bene, devo salire sulle scale. Che culo! Guardate quanto spazio che c'è in questa cesta. E guardate anche che ci sono... Ora avevo raccolto dei fiorellini che sono utili per regalarli a delle persone, magari a una femmina. Intanto non so da quanto è arrivata la mail. Comunque andiamola a vedere. E dice, ciao! Sono tornato da un viaggio di pesca. Dovresti venire giù alla spiaggia ogni tanto. Ho qualcosa per te. Bene, perfetto. Poi vedremo. Che succede? Uh, sono stanco. Ho finito tutte le energie. No, cammina pianissimo. Vabbè, ma che faccio? Vado a letto alle 5 del pomeriggio. E a questo punto vado a letto con le galline. E vabbè, ragazzi. Siamo al secondo giorno. Abbiamo guadagnato pochissimo. E allora ci vediamo in un prossimo appuntamento. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace. E noi ci vediamo alla prossima con il terzo giorno di Stardew Valley con il nostro fantastico e mitico Hans. E noi ci vediamo alla prossima.